...di Dubai, abbiamo fatto un bel giro turistico grazie al tassista Mohamed ci ha fatto un prezzo speciale, 80 euro, grandommadri un po' buona e dopo dicono i napoletani e i romani, ogliu, spaccate tutti i turisti che vengono allora, un avviso di tutti i tassisti di Roma e di Napoli ogliu, appena arrivano i turisti, indommadri bene 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 facciamoci riconoscere pure noi comunque, com'è Dubai? quello che abbiamo visto è carina, simpatina cioè, c'è un po' di pelo, c'è un po' di russa babbo a pay, babbo a pay, sampey, sampey, babbo però dai, meglio di charme shake, dai, cazzone, non fia anche perché ricordiamo l'aeroporto di Dubai e uno è stato detto, sono stato quotato come uno il numero uno al mondo, eh, per il movimento di turisti, di passeggeri effettivamente è una bella bestia e va bene, voglio ci vediamo, se Dio vuole, a Roma operazione sollevante è finita questa è la mini operazione abdua, la prossima operazione, vi ricordo ragazzi operazione Hot Water, Hot Water in Islanda vi aspetto in molti e un saluto dalla Rolex, Teitona ah, inquadrato? ok see you later